... ... legislativi, decreti, progetti di legge, disegni di legge e votiamo per la consulta e per il CSM in seduta notturna. Per i 5 Stelle allora ascoltiamo Danilo Toninelli e poi la linea può tornare allo studio. Allora la quadra non la sta trovando la maggioranza e ciò significa che il patto del Nazareno sta scricchiolando. Noi con una procedura trasparente e pubblica a giugno abbiamo fatto i nostri nomi, li abbiamo detti e comunicati a tutti i gruppi politici chiedendo loro di fare i loro in modo tale che si potessero scegliere i migliori. In realtà cosa sta accadendo? Si stanno spartendo le poltrone nel silenzio, nel buio del patto del Nazareno e stanno votando persone impresentabili come violante e per l'altro non si mettono d'accordo. Noi ieri abbiamo addirittura ricevuto un ricatto. Ci hanno detto, nonostante rappresentiamo il 25% degli elettori, che se non votavamo violante perché non hanno i numeri non avrebbero votato uno dei nostri candidati al CSM. Noi diciamo che non partecipiamo a questa spartizione di poltrone perché non ci interessa che vada un nostro nome. Ieri il duro attacco di Nenti